Continuate a volervi bene, come fratelli. Non dimenticate di ospitare volentieri chi viene da voi. Ci furono alcuni che, facendo così, senza saperlo ospitarono degli angeli. Il comandamento di Gesù, di amarvi gli uni gli altri come Lui vi ama, sia la meta da raggiungere e per la quale spendete tutta la vostra vita. È necessario che il Cristo stesso ami attraverso voi e con voi Dio e il prossimo. Dio non lo vedete, ma il prossimo fa parte della vostra vita nel mondo. Perseverate nel bene e amatevi in Cristo di amore puro, di amore divino che va oltre le bassezze umane. Amore che è prima di tutto accoglienza con piena apertura del cuore all'altro, senza nulla temere perché niente e nessuno può nuocervi se siete ancorati alla salvezza. Cristo Gesù. I discepoli di Gesù, i miei servi, vivono nel mondo. Potete riconoscere i religiosi e i sacerdoti. Ma spesso non potete riconoscere i molti cuori puri che sono nel mondo. Quanti, angeli della terra, vi sono passati accanto e voi non li avete riconosciuti. Accogliete tutti con cuore sincero. Chi accoglie voi accoglie me. Chi accoglie me accoglie il Padre che mi ha mandato, disse il Maestro. Se non chiudete il vostro cuore al prossimo ed osservate il comandamento di Gesù. Il Regno dei Cieli è vicino a voi e vi apre le sue porte. Cercate di amare tutti senza preferenze. Come fa il Padre vostro, per essere Suoi figli?